Oggi andiamo a trattare un super argomentone, quindi sarà molto raccontato, ma vorrei che divenisse per voi questa rubrica, il nostro bollettino cosmico del mese, come anche una sorta di guida che ci può aiutare a vedere le energie del mese come un'opportunità per allinearci con azioni concrete a quella che può essere anche la pianificazione che noi andremo a portare di giorno in giorno nel nostro lavoro, ma anche nella nostra vita. Vi do ufficialmente il benvenuto in questo spazio collettivo all'interno del quale andiamo a portare avanti la nostra rubrica cosmica, ovvero andremo a creare una sorta di bollettino, come ho appunto deciso di chiamarlo, un bollettino cosmico all'interno del quale inserire tutte le informazioni da un punto di vista astrologico che ci possono aiutare a comprendere meglio le energie che ci aspettano durante il mese e anche in quale modalità poter anche osservare come poter inserire nella nostra attività quotidiana queste energie non solo nell'ascolto di noi stesse ma anche nell'opportunità che si genera per poter creare un business che sia allineato a noi e che non ci porti diciamo in quella classica ruota del criceto che a un certo punto sfianca, ci fa anche sentire demotivate, a volte anche le energie che fluiscono comunque nell'intero cosmo divengono un po' un ostacolo quando noi ci prefiggiamo un obiettivo e magari non è quello il momento per portare avanti quel tipo di modalità. Chiaramente questa conoscenza ci permette di decidere in completa autonomia come sfruttare questa energia al meglio, poi ognuna può scegliere le attività da portare avanti, come proseguire il proprio viaggio, però intanto noi abbiamo come dire già un bagaglio di conoscenza che ci dà un'opportunità incredibile, quella di non vagare nel vuoto ma in realtà di decidere consapevolmente come proseguire il nostro viaggio di realizzazione. E quindi dato che gli argomenti sono veramente vasti, perché qua andremo a parlare di tutto un mese, il mese di febbraio in questo caso, e quindi andiamo direttamente a vedere che cosa ci aspetta in questo mese. Come sapete quando io parlo di maestria cosmica parlo proprio di uno strumento, di una modalità con il quale noi possiamo creare la nostra alchimia di realizzazione e manifestazione di noi stesse e quindi andiamo proprio a usare una serie di strumenti, andiamo a utilizzare la conoscenza cosmica vista da un punto di vista energetico e quindi andiamo a conoscere che cosa si smuove energeticamente nell'universo attraverso l'astrologia, in che modo possiamo accedere a energie sempre diverse, per esempio con i portali energetici, con le celebrazioni pagane, quindi abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di anche praticare, praticare a modo nostro e nel quotidiano. E quindi andiamo a fare un po' una scaletta di quello che vedremo insieme oggi. Per prima cosa andremo ad esplorare le energie di questo portale energetico che si aprirà proprio il 2 febbraio e a questo si aggiungerà anche una celebrazione che avverrà a partire dal 1 febbraio e che ufficialmente si celebra poi il 5 di febbraio, che è appunto la celebrazione pagana di Imbolc. E da questo andremo ad addentrarci al meraviglioso mondo astrologico che ci permette di osservare quali sono le energie che si smuovono e quindi andiamo a vedere come nell'astrologia il sole entra nei pesci a partire dal 19 febbraio, andremo a vedere anche le altre energie che si smuovono, quindi vedremo appunto come reagiscono i pianeti, andiamo a vedere appunto quadrature, trigoni, quindi aspetti che ci permetteranno di vedere un grande supporto comunque per questo mese in arrivo e andiamo anche a osservare quali saranno le lunazioni del mese. Ci sarà la luna nuova in acquario, la luna piena in vergine, quindi ci saranno già questi passaggi ciclici che ci permetteranno di compiere delle pratiche mirate. Quindi ci sono una serie di aspetti che adesso andremo a vedere e andremo a esplorare poi anche i diversi pianeti, quindi sia quelli che entrano nel moto diretto e sia quelli che in realtà hanno dei passaggi su determinati segni, ok? Dunque cominciamo dalle basi. Andiamo proprio a partire da questo famoso portale energetico. Qui abbiamo un portale che come ogni mese si presenta con una veste diversa e possiamo vederla non solo associandola all'astrologia o associandola come appunto è in realtà il punto di partenza da cui parto io, ovvero la numerologia. Qui andiamo a vedere in realtà come potremmo considerare ogni portale di ogni mese come delle tappe, delle tappe che ci portano a una crescita, a un'evoluzione e soprattutto a esplorare degli aspetti diversi di noi. E quindi perché lo associo anche all'astrologia? Perché mi ricordano molto anche la composizione del tema natale che ha le sue 12 case, quindi il numero 12 è un po' un numero che si ripete, poi hanno significati diversi in realtà e lo vedremo adesso di mese in mese, però sicuramente ci dà già un'indicazione rispetto a come l'universo nella sua perfezione ci dà una serie di energie che sono comunque allineate tra loro e divengono anche un'opportunità per andare a spingere verso quella parte che noi andremo a individuare della nostra vita perché quello che vi riporterò sull'energia di questo portale per esempio ci dà già un'indicazione e andrà a risvegliare in noi un'intuizione rispetto a dove voglio portare l'attenzione perché quello che vi dirò magari vi risuonerà per ognuno in modo diverso o in ambiti diversi della vostra vita e quindi andando a vedere questo portale energetico andiamo a vedere che avviene come per ogni mese quando accadono dei numeri doppi quindi il primo gennaio è stato il primo portale che abbiamo visto ed esplorato insieme adesso andiamo al 2 di febbraio dove abbiamo una dualità del numero 2 2 nella data, 2 nel mese quindi 2-2-2024 quindi accompagnate da questo anno dell'otto abbiamo questo numero che simboleggia nella numerologia la dualità, il bilanciamento il numero 2 rappresenta proprio quell'equilibrio e quell'armonia che porta a un'integrazione proprio perché qua si parla di dualità quindi di due parti che possono generare un'integrazione e quindi immaginiamoci per esempio l'aspetto di maschile e femminile che esiste dentro di noi come la spiritualità e la materia cielo e terra quante cose in realtà compongono la nostra vita di dualità questa parte in realtà perché è importante da osservare perché va a indicare la nostra necessità di andare a creare un equilibrio un bilanciamento tra opposti tra opposti che in realtà possono essere complementari come dicevo si può creare anche un'unione quindi un esempio può essere proprio il lavoro e la nostra vita personale il dare e il ricevere la mente e il cuore vedete come non solo da un punto di vista come posso dire più olistico più spirituale possiamo trovare connessione nella dualità ma anche in aspetti concreti della nostra vita e questo può generare in voi qualcosa che ci porta a sentire una risonanza rispetto a un aspetto della nostra vita il numero due in realtà ci parla anche di collaborazione e di partnership infatti questa parte che apre questo portale energetico del 2-2 ci permette di osservare anche l'importanza dei rapporti delle connessioni perché in questa fase noi andiamo ad attingere un'energia che ci dà un supporto per intanto riflettere su che cosa può esserci utile quali connessioni possiamo generare e una prima connessione in realtà può avvenire proprio con noi stesse e con quelle parti di noi che oggi possono cooperare e possono generare una capacità attrattiva che ci porta in realtà come dire ad avvicinarci ad anime affini come una vibrazione che in realtà permette proprio di creare questo avvicinamento quasi naturale e quindi possiamo proprio vedere che questa parte noi possiamo vederla sia da un punto di vista professionale ma anche personale e questo ci può portare proprio grazie a questo portale energetico a un inizio di un nuovo ciclo infatti una cosa importante che vorrei sottolineare è il fatto che noi con questo mese entriamo anche ufficialmente nell'anno del drago e quindi in questa prospettiva andiamo proprio a osservare che già questo può indicarci energeticamente l'inizio di un nuovo ciclo l'inizio di una nuova fase della nostra vita poi da poco siamo entrate anche nel plutone in acquario e quindi chiaramente tutti questi aspetti in realtà rievocano in noi delle parti che ci permettono di osservare che siamo all'inizio di un viaggio un viaggio di cui noi abbiamo le redini noi siamo alla guida della realizzazione della meta verso cui andare e quindi tutto questo ci permette di cogliere incredibili opportunità e quindi in termini concreti in che modo può esserci utile questo portale in realtà potrebbe essere il momento ideale per avviare nuovi progetti nuove idee nuove partnership per esempio e vediamo che questi aspetti riguardano appunto la vita personale e quella professionale e quindi andiamo a considerare alcuni aspetti che possono essere per noi evolutivi questo mese grazie a questo portale energetico andiamo intanto a portare l'attenzione su una ricerca di equilibrio quindi andiamo a riflettere sulle aree della nostra vita che ci richiedono un equilibrio cerchiamo di portare armonia tra le varie polarità opposte per andare a raggiungere un maggiore equilibrio e serenità andiamo anche a coltivare le relazioni per esempio quindi utilizziamo questa energia per andare a rafforzare i legami esistenti o invece per avviare anche delle nuove connessioni che per noi abbiano un significato che per noi siano perfettamente allineate quindi le collaborazioni le partnership ad esempio potrebbero essere particolarmente favorite in questo periodo quindi sfruttiamo questo questo portale energetico per dare inizio a tutto questo e soprattutto per darci la possibilità di iniziare un nuovo cammino evolutivo quindi se in questo momento sentite di avere dei nuovi progetti o degli intenti che desideriamo avviare questo potrebbe essere un momento propizio per cominciare questo viaggio per dare una spinta verso il fuori tutto quello che abbiamo dentro possiamo portarlo a realizzazioni e lo possiamo fare attraverso delle azioni attraverso la sperimentazione per esempio quindi sfruttiamo questa energia positiva per iniziare un nuovo ciclo con tutte le risorse che abbiamo a disposizione poi tutto questo in realtà io lo vado ad approfondire nella membership di Cosmic Ascension perché è un contenitore all'interno del quale ci sono tutte elettrici akashiche channeler che hanno bisogno e desiderano espandere la propria capacità di canalizzazione e quindi si va ad approfondire questo aspetto energetico proprio per integrarlo nella nostra vita nel nostro business e creare una connessione concreta anche con la nostra capacità di realizzare ed elevare il nostro business quindi in realtà vediamo che già questi aspetti ci permettono di vedere che bagaglio c'è comunque ad attenderci per il mese di febbraio se vogliamo e ovviamente questo evento cosmico non è solo perché abbiamo anticipato all'inizio che ci attende veramente tantissimo in questo momento insieme infatti come anticipavo prima dal primo di febbraio celebriamo Involk quindi andiamo a portare anche l'attenzione su non solo i cicli cosmici visto solo come universo all'interno dell'universo in realtà noi abbiamo anche da considerare la nostra madre terra andiamo a considerare il nostro pianeta che ha al suo tempo dei flussi energetici potenti e quindi queste celebrazioni pagane ad esempio ci danno anche un allineamento rispetto ai cicli della natura per esempio rispetto a delle energie specifiche che noi possiamo integrare perché le percepiamo noi siamo qui su questa terra per un motivo ben preciso e quello che andiamo a fare qui in realtà è anche allineato a questo tipo di esperienze che viviamo e quindi la celebrazione di Involk in realtà è un'opportunità non solo per conoscere una tradizione che comunque procede negli anni ma anche come l'energia della natura ci dona un cambiamento un cambiamento che ci può portare a percepire in modalità magari diversa per ognuna anche che cosa accade dentro di noi come poterla sfruttare e vedremo che anche questa celebrazione trova il suo allineamento e la sua sincronicità con quello che abbiamo visto per il portale energetico per esempio intanto andiamo a vedere per chi non conoscesse questa meravigliosa celebrazione andiamo a vedere che in bulk è una festa tradizionale che va a celebrare il cambio di stagione quindi vediamo che ci apprestiamo ad avvicinarci alla primavera e andiamo ad associare questa celebrazione al momento di fertilità al risveglio della natura e anche al risveglio della luce che gradualmente comincia a crescere dopo i mesi invernali che abbiamo vissuto e quindi possiamo sfruttare questo tipo di energia anche nel nostro business e possiamo vedere che questa è una grande opportunità per intanto dare il via a nuovi inizi quindi come abbiamo visto anche per il portale energetico 2.2 anche questo ci ricorda questo passaggio di rinascita e di nuovi inizi infatti in bulk va a rappresentare proprio il risveglio della natura ed è un ottimo momento per andare a introdurre nuovi progetti nuove idee e anche strategie mirate per il nostro business quindi diamoci l'opportunità di sperimentare qualcosa che magari è stata solo un'intuizione per ora e consideriamo questo momento come un'opportunità per ricominciare e andare a rinnovare alcuni aspetti del nostro lavoro quindi un momento di osservazione in realtà può essere veramente utile per noi così anche come dare inizio grazie a questa celebrazione di in bulk proprio perché andiamo a far luce andiamo anche a portare l'attenzione sulla pianificazione e sulla preparazione per esempio infatti questa celebrazione che appunto ci permette di vedere l'inizio della primavera ci porta anche a vedere in bulk come un momento ideale per pianificare il nostro futuro e soprattutto pianificare il futuro del nostro business e quindi possiamo preparare dei piani dettagliati degli action plan per così dire e anche andare a definire degli obiettivi che possono essere delle microtappe rispetto a quello che può essere un raggiungimento più a lungo termine quindi immaginando da qui alla fine dell'anno che cosa voglio raggiungere per esempio questo può essere un inizio andare a crearci delle piccole tappe per esempio e tutto questo ci aiuta anche a stabilire una strategia più chiara per la nostra crescita quindi anche se non abbiamo in questo momento gli strumenti o l'affiancamento idoneo per andare a creare una strategia qui non stiamo parlando solo di parti tecniche ma anche di seguire la nostra unicità e di lasciare andare il nostro intuito verso quello che sentiamo più utile per portare la nostra unicità nella nostra vita ma anche nel nostro business e questa parte è importantissima perché tutto parte intanto dall'intuizione poi si possono applicare delle strategie ma è necessario fare prima questo tipo di osservazione il portale energetico 2.2 così come la celebrazione di Involk sono entrambe due occasioni che noi viviamo nel mese di febbraio quindi già percepiamo questa energia è come se gennaio fosse un po' quel periodo di passaggio inizia l'anno quindi c'è l'energia di un nuovo inizio che viene quasi percepito attraverso la chiusura di un anno l'inizio di un altro ma non siamo ancora a quel picco energetico tale che ci permette di poi essere pronti materialmente a vivere quell'inizio e febbraio invece ha questa funzione quindi in realtà questa è già un'ottima indicazione in effetti è importante anche vedere come non dobbiamo avere per forza l'aspettativa di dover fare quello che è importante quando si parla di maestria cosmica e quindi di strumenti che ci permettono di connetterci alle energie universali è proprio quello di osservare questa relazione tra noi e queste energie per vedere come queste energie fluiscono in noi perché qualunque cosa ci arrivi anche quando arriva la stanchezza per esempio o un flusso energetico più basso è sempre per il nostro bene più alto e quindi andiamo a capire come arriva a noi questa energia ma se non la conosciamo è difficile anche capire che cosa sta accadendo e soprattutto è difficile poter avere sempre una proattività rispetto a come possiamo reagire a tutto questo a volte divengono anche degli ostacoli questi momenti dove magari non ce la sentiamo perché ci sentiamo con un'energia bassa oppure sentiamo che abbiamo bisogno di altro e quindi non è solo un tema di andare a rispondere al nostro bisogno ma anche di poter guardare un quadro più ampio dove la risposta ai nostri bisogni può essere supportata da una pianificazione per esempio o comunque da una prospettiva di come ottimizzare quel momento così da fare azioni mirate e quindi meno azioni e come dire più risultato questo poi è proprio quello che sul lungo termine noi andiamo a vedere come anche fattore diciamo di beneficio nel vedere appunto questa connessione universale che ognuna di noi ha però non sempre consapevole e quindi sfruttiamo questo momento perché siamo nel pieno della celebrazione di Imbolc per seguire una purificazione seguiamo la tradizione proprio di Imbolc dove in realtà proprio andiamo ad associare già questa celebrazione con la pulizia e la purificazione usiamo questo anche questo concetto nel business cominciamo a togliere cominciamo a guardare quello che non funziona come qualcosa che è importante lasciare andare andiamo a riorganizzare i nostri processi andiamo ad aggiornare le nostre modalità i nostri sistemi facciamo spazio perché da questo spazio noi possiamo attingere nuove energie possiamo sentirci più leggere per esempio e soprattutto siamo più nel focus e questo può essere supportato anche da dei rituali di abbondanza e di prosperità per esempio quindi andiamo a sfruttare questa energia per andare a creare nuovi rituali delle pratiche nuove delle pratiche che in realtà non ci tengono ancorate a qualcosa di fisso che non può essere modificabile andiamo a vederlo anche come un'opportunità per seguire la nostra energia ogni giorno e crearci una routine che ci permette di praticare in modo diverso anche ogni giorno ma quella pratica in realtà rimane un percorso quotidiano e che da quella diversità in realtà sentiamo meno il peso del dovere ma più l'esigenza di soddisfare un bisogno quindi ad esempio una cosa importante che ci può permettere anche di vedere dei rituali di abbondanza di prosperità possono riguardare ad esempio per quanto riguarda il business mi viene in mente il creare delle tavole rotonde per fare un brainstorming collettivo così da poter anche avere un confronto con donne che magari stanno vivendo situazioni simili alle nostre oppure portare e ricevere anche delle idee innovative delle idee che ci portano a una prosperità anche se vogliamo e questo in realtà mi associa anche al tema della collettività creiamo una collaborazione perché poi la celebrazione di Inbol che è anche questo è unirsi ad altre donne per celebrare per celebrare questa rinascita per celebrare questo nuovo inizio e quindi proprio anche in occasione di queste celebrazioni è bello ritrovarsi con donne allineate con cui puoi sostenersi anche nella crescita che avverrà appunto nel corso dell'anno Inbol che è anche un momento per celebrare la comunità non celebriamo solo la festività ma celebriamo anche noi stesse e l'unione che si crea tra questo cerchio di donne quindi possiamo coinvolgere chi vogliamo in tutto questo possiamo creare anche qua delle partnership più strategiche no? proprio per andare a condividere le nostre idee e risorse per generare anche nuove opportunità per la nostra vita per il nostro business quindi Inbol che in questo caso ci dà proprio l'opportunità di celebrare la rinascita e l'energia vitale ci porta a nuovi inizi ci permette ci permette anche di avere un supporto per la crescita del nostro business quindi in questo momento noi andiamo a rinnovare a pianificare e a connetterci con anime affine siamo un popolo di guide tra le guide e se siamo qua non è un caso quindi andiamo a costruire il nostro futuro manifestandolo con la nostra idea di realizzazione questa celebrazione la poi la celebreremo insieme in realtà quindi se volete unirvi nel gruppo di manifest il percorso che ho creato per dare delle basi strutturate alla manifestazione per lavorarci in modo concreto e distaccarci un po' da quello che è un concetto più popolare dove si ripete una singola frase si lavora di journaling e basta si fa un lavoro molto più profondo si lavora anche sul nostro canale perché noi siamo un canale di connessione con le energie universali quindi andiamo a fare tutti questi lavori molto più profondi per andarci a creare un contenitore anche comune e collettivo di donne dove si praticano anche dei rituali per esempio e dove si celebra proprio anche queste occasioni questo calendario pagano che in realtà è parte della nostra cultura e tradizione lo andiamo a celebrare insieme quindi nel caso vi aspetto anche su manifest perché andremo proprio a realizzare tutto questo adesso andiamo a dare una nuova come dire energia e una nuova spinta verso questo mese di febbraio perché andiamo a vedere da un punto di vista astrologico che cosa si smuoverà questo mese intanto partiamo dal presupposto che dal 19 febbraio alle ore 5 e 13 orario chiaramente nostro italiano il sole entrerà ufficialmente nel segno dei pesci quando in genere il sole entra nel segno del pesci noi andiamo ad aprirci a un nuovo periodo anche di connessione mi viene a dire perché i pesci oltre ad essere un segno d'acqua è anche un segno molto spirituale quindi è un momento dell'anno in cui noi andiamo ad aprirci alla sensibilità alla creatività e anche all'intuizione quindi è meraviglioso vedere che in questo mese andiamo poi ad aprirci a questa nuova energia un'energia che ci potrà supportare anche ad allinearci in modo più connesso a noi stesse e sarà più semplice riconoscere la nostra unicità chiaramente sarà un momento anche di grande osservazione potrebbero emergere alcuni trigger alcuni blocchi però sapendolo possiamo prepararci ad accogliere tutto questo per esplorarlo ed evolverlo questo momento in realtà è ideale per andare ad accogliere un approccio più compassionevole e anche empatico prima di tutto verso noi stesse e poi anche nella nostra attività per esempio perché questo ci permette intanto di andare a toccare dei punti che possono essere di supporto alle persone che noi guidiamo e supportiamo nel nostro lavoro ma anche ad empatizzare meglio eventuali aspetti che in questo momento potremmo percepire come un fallimento quante volte ci succede di fare un lancio oppure di proporre un nostro servizio un nostro percorso e magari non abbiamo i risultati che speriamo ecco in questo momento questa energia ci aiuta ad abbracciare anche questa parte forse un po' più vulnerabile di noi che in questi momenti chiaramente si può sentire vulnerabile proprio per rinnovarci di una nuova energia in realtà andare a darci un nuovo inizio a proseguire con costanza e con piena fiducia verso quello che stiamo portando nel mondo perché quello che stiamo portando ha un grande valore dobbiamo solo trovare la formula alchemica perfetta che ci permette di entrare veramente in connessione con queste persone soprattutto permettere al mondo di conoscere quello che noi stiamo portando perché a volte è proprio questo quello che ci serve per poter appunto avere una crescita e un'elevazione e quindi questo sole in pesci ci aiuterà in questo ci sarà anche una quadratura in realtà con urano a partire dall'otto febbraio e quindi dall'otto febbraio potrebbe portare a una certa agitazione un cambiamento improvviso però può anche offrire degli spunti innovativi quindi diciamo che l'otto febbraio non siamo ancora ufficialmente con il sole in pesci quindi questa quadratura in realtà ci può portare un momento di chiamiamola destabilizzazione cioè dobbiamo un po' tarare quella che è la nostra la nostra idea e i nostri intenti per portarli avanti senza diciamo mollare il colpo e soprattutto andiamo a osservare anche tutti quegli spunti innovativi che potrebbero arrivarci quindi andiamo a sfruttare questo sole in pesci andando ad attingere intanto la creatività che è un elemento importantissimo quindi questa creatività ci permette di andare a incoraggiare anche quello che stiamo portando avanti e soprattutto ci dà l'opportunità anche di fare dei brainstorming perché attraverso quello verranno tantissime idee può essere utile farlo qualora si abbia già delle partnership magari dei brainstorming di gruppo con il proprio team per esempio oppure con persone affini come dicevamo prima anche creando un cerchio di donne e di professioniste che magari hanno come dire le stesse dinamiche le stesse problematiche chiamiamole così e può esserci uno scambio innovativo anche da questo punto di vista si può creare appunto empatia come dicevamo e quindi andiamo a creare un ambiente di lavoro o anche un ambiente nella nostra vita molto più accogliente e ci permette anche di andare appunto ad osservare sì quello che vogliamo cambiare ma senza troppo giudizio e anche l'intuito ad esempio ci porta ad attuare un approccio nuovo un approccio nuovo alle decisioni che andremo a prendere perché attraverso questo noi andremo proprio a seguire veramente la vibrazione della nostra anima seguire veramente la nostra unicità ma richiede tutto questo un'apertura alla fiducia perché a volte siamo più inclini a seguire quello che magari vediamo all'esterno perché magari sono tecniche collaudate per esempio ma non sempre quella tecnica collaudata funziona per me quindi diamoci l'opportunità di essere flessibili e adattabili anche perché la quadratura con urano ci potrebbe portare dei cambiamenti improvvisi e quindi seguire il nostro intuito ci permette di dare un focus importante verso quello che è più importante in realtà per la nostra realizzazione quindi cerchiamo di essere più possibili flessibili e pronte ad adattarci a nuove circostanze a nuove opportunità che magari si potrebbero presentare quindi andiamo anche da questo a far risvegliare una nuova modalità un nuovo livello di comunicazione quindi sfruttiamo questa energia per andare a rivedere le nostre strategie di comunicazione per esempio l'intuito ci sarà di grande guida questo mese quindi cerchiamo dei modi anche innovativi per interagire con le persone che ci seguono per trasmettere il nostro messaggio nel nostro modo unico quindi seguiamo questo perfetto allineamento per portare la nostra unicità nel mondo perché sarà il mezzo per arrivare a più persone a creare più connessioni quindi ecco questa energia dei pesci in realtà vediamo che già ci porta molto quindi anche con questa quadratura in urano in realtà ci sono anche qui delle opportunità fatemi sapere intanto se vi risuona se appunto sentite come qualcosa che vi può essere di supporto per esempio per andare a iniziare una comunicazione nel mese di febbraio che potete sentire allineate a voi e da questo adesso entriamo ancora una volta in relazione con altri eventi cosmici che ci attendono in questo caso vediamo come protagonista la nostra amatissima luna infatti abbiamo due eventi di elunazione come ogni mese che ci danno l'opportunità di osservare meglio che cosa accade infatti abbiamo il 9 febbraio la luna nuova in acquario e qui da noi l'avremo alle 23 58 e sarà un'occasione meravigliosa intanto perché l'acquario è un segno innovatore e questa luna nuova in realtà ci permette proprio di vedere che possiamo proprio dare inizio a un nuovo ciclo lunare sfruttando al meglio queste energie per esempio intanto la luna nuova in acquario ci dà l'opportunità di vivere nella sua piena magnificenza una parte di noi che si può aprire all'innovazione e alla creatività quindi qua torna ancora una volta il tema della creatività per esempio l'acquario tendenzialmente ha un segno legato all'innovazione quindi questo può essere un buon momento per andare a introdurre delle nuove idee delle nuove prospettive per la nostra vita per il nostro business quindi organizzare anche delle sessioni specifiche come dicevamo prima per il brainstorming e andare a generare delle idee originali quindi qui sarà utile ad esempio fare dei rituali che possano darci una sorta di mappatura di nuovi inizi di come impostare in occasione di questa luna nuova delle nuove modalità e portare ad esempio l'attenzione su dei rituali che ci possano permettere di stimolare questo tipo di creatività ci saranno anche dei momenti di connessione che possiamo creare insieme attraverso dei rituali come dicevo prima tutto questo io lo faccio nel gruppo di manifest perché è un percorso che viene chiaramente supportato ci sono anche delle pratiche energetiche che possono aiutarci in questo quindi andremo a lavorare con le canalizzazioni andremo a fare dei rituali veri e propri ci saranno una serie di strumenti che andremo a utilizzare andiamo anche a portare l'attenzione grazie a questa luna nuova all'aspetto comunque di networking se così possiamo chiamarlo e si può associare anche alla tecnologia quindi possiamo esplorare ad esempio dei nuovi strumenti digitali o degli approcci tecnologici nuovi che magari prima non abbiamo utilizzato che in realtà ci permette di ottimizzare i nostri processi di lavoro per esempio quindi tutte queste cose ci possono permettere di aprirci a nuove modalità che vanno a supportarci e a renderci più semplici le cose diciamo così e questa luna nuova ci dà anche l'opportunità di generare una nuova tribe quindi andiamo ad aprirci alla collettività l'acquario è il segno per l'autonomazia proprio che genera cooperazione è molto fedele al valore dell'amicizia per esempio ha valori più umanitari per così dire quindi da questo punto di vista questa energia ci supporterà anche a coinvolgere nuove persone che saranno allineate a noi quindi anche il tema dell'unicità che è emerso prima per esempio può esserci utile per osservare che cosa accade che cosa accade nella nostra situazione attuale e come poter espandere questa connessione con gli altri e poi sarà un'opportunità anche utilissima per sperimentare quindi andiamo a approfittare di questo momento di luna nuova in acquario per fare una ricerca per sperimentare nuove modalità nuove strategie anche nel marketing per esempio quindi saranno proprio delle delle leve importanti ci saranno delle leve importanti per arrivare a trovare la nostra quadra trovare un equilibrio rispetto a quello che funziona per noi e soprattutto quello che arriva anche agli altri quindi sarà un'opportunità incredibile che andrà poi a unirsi a quella che possiamo vedere nel momento di lunazione della luna piena abbiamo la luna piena in vergine quindi questo mese vivremo appunto l'innovazione dell'acquario e il pragmatismo della vergine in realtà la luna piena in vergine arriverà verso fine mese quindi il 24 febbraio da noi ci sarà alle 13 e 30 quindi in realtà appunto vedremo questo tipo di energia già verso metà giornata anche se ancora non vedremo la luna piena nel cielo ma già ci sarà questo sarà un momento importante per vedere come possiamo sfruttare intanto l'elemento terra la concretezza della vergine come un'opportunità per andare a fare un'analisi anche del mese che abbiamo vissuto quindi possiamo creare una sorta di bilancio rispetto a quello che abbiamo realizzato quello che abbiamo portato avanti quello che abbiamo osservato di noi durante il mese e questo lo possiamo fare chiaramente sia con intenti o con in generale la nostra quotidianità la nostra vita personale ma anche e soprattutto direi per il nostro business quindi sarà un momento ideale per andare a fare delle ottimizzazioni rispetto a quello che è avvenuto durante il mese facciamo un'analisi approfondita che ci permette di andare a rivedere i processi messi in atto e andare a identificare tutte quelle aree che possono essere migliorate quindi in realtà questa energia ci dà anche la possibilità e qua lo dico anche da persona che non ama molto l'analisi e non ama quelle cose un po' burocratiche quindi quando devo fare non so una fattura o devo fare quella cosa tecnica del mio lavoro tendenzialmente non fa molto per me quindi non amo particolarmente questa parte però questa energia in realtà quando vivo ad esempio l'energia della luna piena in vergine in realtà mi sento molto più stimolata a farlo quindi mi è già capitato in passato quindi spero che avverrà anche questo mese ma sono sicura di sì quindi possiamo osservare come magari delle attività che probabilmente possono sembrarci più tediose poi non è per tutte così per fortuna possono essere in realtà ad esempio supportate da questa energia ma non è solo l'analisi e l'ottimizzazione che andiamo ad avere come beneficio da questa luna nuova ma anche la pianificazione quindi andiamo a dare un boost alla nostra pianificazione rispetto anche a quello che è avvenuto durante il mese quindi andiamo a vedere come possiamo pianificare meglio quindi ottimizzare come dicevamo in prima i processi e ancor più nei dettagli quindi avere un dettaglio che ci dà anche una sorta di velocizzazione per il mese poi che vivremo a marzo per esempio quindi utilizziamo questa energia di luna piena in vergine proprio per organizzare tutte le nostre risorse in modo efficiente quindi non c'è solo less is more quindi non c'è solo questa parte ma c'è anche proprio una parte di come dire ottimizzazione vista da un punto di vista di faccio prima me la sbrigo prima diciamoci la verità questa può essere una grande manna dal cielo ok e oltre a questo c'è anche la possibilità di attuare dei miglioramenti quindi andiamo a vedere come possono essere più supportate in questa fase di luna piena in vergine anche le modifiche che vogliamo fare o le migliorie che vogliamo apportare alla nostra vita quindi io quando parlo della nostra vita parlo chiaramente anche nel nostro business ovviamente quindi possiamo portare un focus molto più attento e mirato su andare a implementare queste pratiche e ottimizzare anche i servizi che offriamo per esempio quindi magari possiamo vedere dall'osservazione di cui parlavamo prima anche l'opportunità ad esempio rispetto a quello che ci è stato chiesto dagli altri da clienti da persone intorno a noi e capire magari che quello che noi stiamo offrendo può essere ancora di più migliorato può essere ottimizzato anche solo nella comunicazione banalmente perché magari c'è un aspetto poco chiaro e questo ci dà anche l'opportunità di vedere come tutto questo si riflette anche con le persone intorno a noi quindi se abbiamo delle partnership se abbiamo un team di lavoro se abbiamo delle buddy quindi delle collaborazioni che ci portano più a un confronto di sorellanza o se abbiamo ad esempio nella nostra vita le persone più vicine a noi parenti famiglie amici insomma tutti aspetti che ci permettono di vedere che tutta questa ottimizzazione avrà un riflesso anche nelle nostre relazioni intorno a noi e qua possiamo mettere anche in risalto un'altra cosa di cui spesso non parliamo quando si parla di business ovvero l'aspetto della salute qui possiamo portare l'attenzione grazie a questa energia di luna piena in vergine anche il nostro benessere il benessere che riguarda il nostro stato di salute le attività che noi magari facciamo per prenderci cura di noi stesse e possiamo proprio promuovere un nuovo approccio una nuova cultura che nella nostra vita sarà un elemento cardine anche di realizzazione di nuove opportunità perché se noi ci prendiamo cura di noi stesse chiaramente questo si riflette anche nella nostra capacità di agire e di realizzare per esempio i nostri intenti quindi possiamo sfruttare questa energia di luna nuova in acquario e luna piena in vergine nel nostro business in modo proprio allineato per portare nuove idee per migliorare le nuove organizzazioni che andremo ad attuare per avere un maggior coinvolgimento delle persone intorno a noi e per contribuire ad avere comunque uno stato di benessere e di anche di work life balance mi viene da dire quindi di equilibrio tra la nostra vita personale e la nostra vita professionale quindi diciamo che già questa energia come vedete sarà molto pragmatica perché da una parte abbiamo una spinta verso l'innovazione verso la rivoluzione quindi con la luna nuova in acquario ma dall'altra abbiamo anche la spinta verso il fermare alcuni processi rivederli cambiare qualcosa ottimizzare quindi c'è l'aspetto sia pratico ma anche quello più innovativo e quindi questo in realtà ci parla di un altro aspetto energetico che ci vedrà protagoniste di nuove avventure poi le vedremo insieme durante il mese in realtà ma oltre a tutto questo che andremo poi a sperimentare come dicevo prima anche con i rituali nel percorso di manifest per chi è all'interno di questo percorso abbiamo anche la possibilità di andare a vedere come il cosmo si muove quali energie si smuovono questo mese e quindi possiamo andare a vedere intanto che dal 5 febbraio mercurio entra nel segno dell'acquario e quindi già possiamo portare attenzione a mercurio come pianeta che ci darà una serie come posso dire una serie di intuizioni una serie di energie che riguarderanno la nostra sfera mentale perché mercurio appunto ci parla di comunicazione ci parla di processi mentali quindi ci dà tutta questa come dire questa energia che ci permette di vedere come possiamo andare a creare come dire l'innovazione l'innovazione di cui parliamo in questo caso parlo di innovazione perché parlavo di mercurio in acquario ma in realtà mercurio avrà una serie di spostamenti all'interno del mese infatti dal 5 febbraio avremo mercurio in acquario dal 10 di febbraio mercurio andrà in quadratura con giove e quindi adesso vedremo nel dettaglio che cosa significa tutto questo dal 17 di febbraio invece farà una quadratura con urano quindi parlando di rivoluzione vedremo anche questo aspetto e poi dal 23 febbraio mercurio entrerà in pesci quindi si allinerà al sole che passerà appunto in pesci dal 19 di febbraio in realtà quando mercurio intanto transita nel segno dell'acquario e fa una quadratura in giove ed urano per poi spostarsi nei pesci ci sono diversi impatti che possono influenzare la nostra vita e il nostro business partiamo intanto dal mercurio in acquario che cosa accade quando mercurio entra in acquario la comunicazione chiaramente sarà wow sarà innovativa sarà rivoluzionaria anche se vogliamo quindi ci permette di favorire la comunicazione in modo non convenzionale e quando si parla di modi non convenzionali in realtà mi piace proprio allineare questo concetto alla nostra unicità perché non necessariamente quello che noi comunicheremo sarà come lo fanno gli altri quindi attingeremo non solo al nostro modo unico ma arriveremo anche a fregarcene del fatto che si deve fare in un certo modo per esempio e qui parlo in particolare della comunicazione ad esempio nelle relazioni o anche della comunicazione nel business chiaramente quando si parla di comunicazione non convenzionale si ha quasi l'aspettativa che bisogna rientrare in una certa modalità mentre in realtà qui non ci viene chiesto di fare questo e sarà quella la nostra arma di forza e quindi da questo punto noi andiamo a vedere che possiamo presentare delle idee originali possiamo comunicare in modo creativo possiamo portare appunto innovazione rispetto a qualcosa che magari finora abbiamo fatto in un certo modo ma a un certo punto ci si apre la mente e arriva quasi uno shift dove arriviamo a capire quasi come una lampadina che si accende sulla nostra testa e che ci porta a quell'intuizione dove possiamo dire wow ecco mi mancava questo punto quindi sarà proprio interessante vedere questo mercurio in acquario così come in realtà sarà una grande opportunità anche esplorare mercurio quando va in quadratura in giove cosa significa innanzitutto innanzitutto noi parliamo di giove come un pianeta che ci parla di espansione è un pianeta molto evolutivo e meraviglioso quindi ci permette di fare dei viaggi incredibili anche verso l'abbondanza per esempio quindi è un pianeta che porta questo tipo di energia quando si va in quadratura con un pianeta c'è l'opportunità di fare delle riflessioni potrebbe essere visto all'inizio come un po' una sfida una sorta se vogliamo anche di impedimento ma in realtà quando conosciamo questo tipo di energia possiamo vedere qual è l'opportunità che risiede in tutto questo infatti da una parte noi potremmo vedere che avendo mercurio in quadratura con giove potremmo percepire un eccesso di ottimismo quello è un po' come dire l'energia di giove l'ottimismo ma potrebbe andare un pochino in eccesso così come potrebbe esserci anche l'esigenza di pianificare appunto visto che parlavamo anche di questo e quindi la pianificazione potrebbe essere sovrastimata rispetto alle possibilità che abbiamo alle energie anche che abbiamo e quindi possiamo portare prudenza a questo aspetto e quindi osservare che se sentiamo questa esigenza diamoci una regola diamoci un'osservazione anche esterna come se ci stessimo guardando da fuori e dirci ma effettivamente per me è sostenibile tutto questo oppure lo sto facendo perché mi sto lasciando travolgere dall'ottimismo perché non vedo l'ora di comunicare tutto questo e quindi qui andiamo a crearci un equilibrio tra le due parti quindi vedete come può esserci utile in realtà sapere tutto questo così come sarà utile vedere la quadratura che ha Mercurio con Urano Urano intanto qui possiamo vedere che è un pianeta che è associato al segno dell'acquario quindi già questo ci permette di vedere che Urano ci parla di collettività di rivoluzione di innovazione quando va in quadratura si portano degli elementi in questo caso con Mercurio che ci porta ad avere sia una mente creativa ma anche con dei flussi che possono portarci a un'instabilità per esempio infatti questa quadratura che sarà appunto anche qui una sfida che noi possiamo accogliere come un'opportunità ci dà la possibilità di vedere che la nostra energia mentale può essere eccitante da seguire ma allo stesso tempo può non essere sempre così cioè può avere il suo flusso di alti di bassi quindi diamoci l'opportunità di essere più flessibili di sentirci noi più di stare anche nel flusso così da poter creare per esempio o di poter attuare le nostre strategie per seguire un po' questo flusso avendo delle soluzioni che ci permetta di risolvere anche possibili imprevisti per esempio quindi in realtà anche questa quadratura ci permette di avere quello scatto in più e quella rivoluzione innovazione che diciamoci la verità ci dà sempre quell'assist meraviglioso ma allo stesso tempo seguiamo anche questo flusso quindi l'importante è non avere l'aspettativa che sia sempre con un'energia alta e che quindi possono esserci dietro l'angolo anche degli imprevisti che noi possiamo sapere preventivamente quindi riparare al momento opportuno se e qualora capita chiaramente perché non è scritto sulla pietra però sappiamo già che può succedere saperlo prima in realtà ci permette di prevenirlo quindi in realtà questo può essere incredibilmente utile ma arriviamo adesso all'ultimo aspetto di mercurio di cui voglio parlarvi ovvero mercurio quando entra in pesci in questo caso noi apriamo anche da una sfera comunicativa sia nel modo in cui lo verbalizziamo ma anche nel modo in cui lo ragioniamo andiamo proprio ad accogliere in modo più empatico e intuitivo tutto quello che arriverà a noi quindi in questo caso mercurio in pesci va a favorire una comprensione emotiva ma anche un'intuizione più potente quindi usiamo questa energia per andare ad ascoltare attentamente le persone intorno a noi il nostro team i nostri clienti i nostri amici familiari quindi entrambe le sfere lavoro e vita personale così da andare ad adattare in questo caso parlo del business quando parlo di strategie di comunicazioni che siano più empatiche più allineate anche all'esigenza di questa relazione tra le parti ma in realtà la strategia si può attuare per così dire se vogliamo chiamarla strategia anche nelle nostre relazioni personali perché in realtà strategia si intende anche portare l'attenzione su quello che può essere un trovare un punto in comune tra le parti quindi da questo punto di vista può essere molto funzionale questo mercurio in pesci e quindi accogliamolo in tutta la sua bellezza quindi ecco questa sarà sicuramente un'energia meravigliosa che ci porta il nostro mercurio per il mese di febbraio adesso passiamo alla venere venere è un pianeta bellissimo noi magari lo conosciamo come il pianeta dell'amore ma possiamo proprio vederlo come traduzione astrologica anche come quel pianeta che ci porta a vivere l'attrazione quello che a noi attrae degli altri e allo stesso tempo quello che noi attraiamo degli altri e quindi vedremo che dal 7 febbraio venere andrà in trigono a urano quando si parla di trigono si parla proprio degli aspetti che vanno ancora di più a supporto quindi sarà un'elevazione di questa energia co-creata e dal 16 febbraio vedremo che venere entrerà in acquario e dal 25 febbraio venere avrà una quadratura con giove di giove abbiamo già parlato con mercurio quindi sappiamo che cosa simboleggia il pianeta di giove e anche la quadratura qual è la funzione che ha in questo caso appunto noi possiamo vedere che in questi transiti di venere ci sono diverse influenze che possono impattare sulla nostra vita e sul nostro business in particolare possiamo vedere che quando venere va in trigono ad urano ci sarà un'innovazione una creatività aggiuntiva che è una creatività diversa rispetto a quella che abbiamo visto nei passaggi precedenti ma vediamo più che altro che andremo ad attrarre non solo queste innovazioni questa creatività che giungerà a noi quindi ci permetterà di agire in modo proprio connesso a queste innovazioni a questa creatività ma in realtà andremo anche ad attrarre queste persone che vedranno questo nostro approccio e quindi sarà bellissimo da vedere perché ci porta a nuove idee a nuovi approcci innovativi ci daranno delle relazioni molto più influenti per così dire e anche il modo in cui noi andremo a presentare il nostro lavoro quindi i nostri percorsi i nostri servizi ci permetterà di vedere che questo sarà un buon momento per portare nel mondo tutto quello che desideriamo appunto far conoscere quindi anche qua andiamo a esplorare nuovi metodi e nuove strategie e oltre a questo in realtà quando la venere passa in acquario ci permette di vedere anche un approccio non convenzionale come dicevamo anche prima quindi andremo ad incoraggiare nella nostra vita questa energia meravigliosa per andare a promuovere delle collaborazioni delle partnership magari anche insolite fuori dagli schemi e andremo a diversificare la nostra capacità di attrarre comunque non solo persone con cui possiamo collaborare ma anche persone che possono appunto vedere da questo approccio diverso anche quello spiraglio di unicità che magari finora non è passato e quindi questo in realtà ci porta poi anche a vedere come venere quando va ad esempio in quadratura in giove ci dà anche una piccola sfida quindi ci dà la possibilità di vedere che cosa accade quindi andiamo a sfruttare tutta questa energia che ci può portare a espanderci quindi giove pianeta dell'espansione come dicevamo prima ma forse in maniera eccessiva quindi qui possiamo vedere che ci può portare non solo a un eccesso di ottimismo che abbiamo visto prima ma anche a una tendenza di non riuscire a trovare un equilibrio tra quella che è la nostra ambizione e quello che è l'aspetto reale che ci può ritornare indietro e quindi qui possiamo trovare un equilibrio tra queste due parti e vedere anche qui l'opportunità di poterci espandere senza bruciarci troppo le tappe o bruciare troppo le nostre energie quindi troviamo proprio una nostra modalità che ci permette sempre di metterci in ascolto del nostro corpo e non solo dell'energia del momento quindi andiamo a vedere da una prospettiva più ampia ok quindi già abbiamo appunto anche il nostro venere che ci dà un'ottima come dire un'ottima un'ottima intuizione andiamo poi a concludere in realtà con gli altri pianeti che sono in moto diretto per tutto il mese quindi in realtà andiamo a vedere giove andiamo a vedere saturno andiamo a vedere urano andiamo a vedere tuno e plutone come appunto influiranno su di noi nell'arco del mese teniamo conto di una cosa noi arriviamo da mesi di pianeti su pianeti che erano in moto retrogrado quindi che ci hanno portato non poche complicanze poi messe tutte insieme devo dire che è stata una sfida ben grande non so se nei mesi passati avete percepito proprio questa energia qui di fatica da più punti di vista perché abbiamo avuto circa 11 pianeti adesso vado a memoria che sono stati per mesi in moto retrogrado quindi è stata bella tosta insomma vivere questa energia perché è come se avessimo sempre e costantemente bastoni tra le ruote adesso che li abbiamo in moto diretto traiamo un bel sospiro di sollievo quindi che cosa accade intanto andiamo a vedere che giove come dicevamo prima è un pianeta che rappresenta l'espansione la crescita le opportunità quindi è un pianeta che genera abbondanza per così dire mi piace dirlo in questo modo quando è diretto può andare a favorire la crescita appunto del nostro business per esempio anche la nostra crescita personale per esempio quindi ci apre a nuove possibilità di espansione di partnership e di progetti ambiziosi quindi anche per le relazioni personali possiamo appunto avvicinarci a nuove amicizie nuove conoscenze nuovi amori chi lo sa questo è il momento appunto di sfruttare queste opportunità e di andare a pensare in grande basta limitazioni ragazzi il pensare dobbiamo pensare in grado e poi dopo andiamo a come dire commisurarlo rispetto a tutto quello che ci siamo dette finora abbiamo poi anche Saturno che è in moto diretto quindi questo ci permette intanto di vedere che cosa qual è l'energia di Saturno Saturno è un'energia che va a enfatizzare la parte di struttura la disciplina la stabilità è il nostro grande insegnante è un insegnante un po' severo quindi quando per esempio non seguiamo tantissimo diciamo il messaggio che ci manda ecco che ci dà le lezioni che ci ricorderemo per molto tempo quantomeno quindi in questo caso quando è in moto diretto ci dà la possibilità di costruire intanto delle basi solide di andare a implementare delle strategie che possiamo portare avanti nel lungo termine e di prenderci delle responsabilità che sentiamo allineate con noi noi abbiamo il potere proprio di realizzare i nostri intenti e quindi Saturno ci ricorderà proprio questo che noi siamo in potere quindi è un momento ideale per andare a concentrarci sulla creazione di fondamenta stabili per esempio per il nostro business e andremo a supportarci anche con Urano che è tornato in moto diretto lui è stato se non sbaglio uno degli ultimi a entrare e tornare in moto diretto come dicevamo prima Urano è il pianeta che è legato all'innovazione alla creatività e anche a quei cambiamenti repentini che si attuano e quando la direzione di Urano va in moto diretto ci porta a nuove idee idee anche rivoluzionarie che figuriamoci è super supportato dal Plutone in acquario in cui siamo appena entrate quindi figuriamoci questo mese sarà veramente esplosivo questo ci permette anche di avere appunto non solo delle idee rivoluzionari ma anche dei cambiamenti improvvisi nel mercato quindi l'osservazione di cui abbiamo parlato prima può esserci utile anche per supportare questo tipo di passaggio che può portare appunto Urano quindi questo sarà un periodo favorevole intanto per andare ad adottare l'uso di nuove tecnologie attuare nuove idee entrare in nuovi approcci che possono essere appunto anche non convinzionali e a questo si unirà anche Nettuno che come dicevamo anche Nettuno sarà in moto diretto è un pianeta che va a rappresentare la parte di spiritualità l'ispirazione e la creatività qui si parla di sogno e disillusione anche quindi sono degli elementi che ci portano a vedere appunto anche cose un po' più eteriche chiamiamole così che vediamo magari meno nella nostra realtà fisica però quando Nettuno è diretto in realtà ci dà anche chiarezza nei nostri progetti stimola la nostra creatività e stimola anche la nostra sensibilità quindi questo si attuerà anche come riflesso anche nel modo in cui si presenta il nostro business al pubblico quindi in realtà un elemento molto importante può essere un grande supporto un grande aiuto e in realtà appunto ci permette anche di vedere che questa opportunità ci sta spronando a uscire allo scoperto cominciamo a portarci sempre di più nel mondo e Plutone che invece è il pianeta che è associato alla trasformazione al potere anche al controllo in realtà ci permette di vedere che la sua direzione in modo diretto ci potrebbe portare a delle trasformazioni più profonde nella nostra vita e nel nostro business quindi va a potenziare la capacità di rinnovamento che ognuna di noi può portare e la gestione del nostro potere interiore quindi sarà un momento veramente molto molto potente come avete visto ci sono tantissime energie che stanno fluendo dentro e fuori di noi da noi e per noi quindi diciamo che ci saranno grandi cose che ci attendono queste energie saranno di grandissimo supporto e questo in realtà ci permette anche di vedere se vogliamo andare più nel dettaglio quali sono ad esempio delle aree della nostra vita che noi possiamo vedere anche come aree su cui questi pianeti andranno ad influenzare quindi per chi conosce il proprio tema natale o il tema natale ad esempio del proprio business già si può andare a vedere delle indicazioni ulteriori quindi per esempio per chi volesse fare una lettura del tema natale sia personale che per il proprio business ovviamente potete potete scrivermi e lo leggerò con grande piacere trovate comunque poi tutti i link sempre sul mio sito sempre nei commenti nella descrizione sotto quindi in realtà avete la possibilità di accedere a tutto questo anche a un livello diverso rispetto a quello che abbiamo esplorato insieme intanto fatemi sapere come vi sembrano queste energie del mese perché sono curiosa di avere anche la vostra opinione e ovviamente poi noi ci daremo appuntamento anche al prossimo mese per il bollettino cosmico di marzo che chissà che cosa ci porterà quello che sento intanto come messaggio connesso è proprio il fatto che l'universo ci sta spronando questo prossimo mese ad agire ad aprirci al mondo ad uscire allo scoperto credo che questa parte sia molto importante e quindi ci tengo a rimandarvela perché questi messaggi universali in realtà sono un po' delle traduzioni che in questo caso per me è una mia intuizione è una mia idea ma sono curiosa anche di sapere che cosa ne pensate voi intanto vi ringrazio per essere state qui con me finora vi sento estremamente grata di poter condividere con tutte voi queste energie meravigliose e per qualsiasi cosa ovviamente vi aspetto nei commenti grazie a tutte ragazze un bacio ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti